Ciao sono Magnus e ritorniamo sempre qui su Outcast a New Beginning, non mi ricordo francamente sinceramente un gioco così dispersivo, un gioco che praticamente ti fa perdere completamente la cognizione, non dico tanto del tempo perché quello lo senti quando passa e sinceramente passa anche abbastanza lentamente, ma per la storia. Comunque c'è un allungamento di brodo ma veramente veramente secondo me infernale, mi sono spostato un pochettino a Pracriana per cercare di vedere magari se riusciamo a fare qualcosa di diverso, comunque bisogna sempre trovare Rifa e parlare con lui, perché si parla veramente tantissimo ed è una delle cose che secondo me di questo gioco più mi innervosisce, però dai siamo arrivati fino a questo punto perché non completarlo, no? Magari alla fine ci può stupire, non lo so Happy to meet someone here, what's up? Ah, I hope there's nothing up there, I'm afraid to look, my head's still ringing from the bombs that destroyed our beautiful city of Pracriana Well, you're safe with me, I'm Slade, Cutter Slade You can call me Rifa, it's a title more than a name, but I've worked all my life to obtain it What's it mean? The Rifa is the head of the university, Procriana is Adelpha's cradle of knowledge, or worse I remember the dean of my college, kept calling me a slacker because of a movie he saw That old scarecrow made me hate school No offense None taken, but are you aware that we don't accept new students? Yeah, I figured as much You gotta hang with Kureg, you two are cup from the same cloth Kureg, meh, old and pretentious, we disagree on everything, he's stuck in the past, but I am looking to the future And what do you see? Science, progress, old scrolls won't lead us anywhere We should write new ones, and keep evolving, there is still so much knowledge to be discovered Looks like the city took a big hit After the Dolotar Guardian's ill-fated assault, the invaders struck suddenly They took no prisoners, and reverted all the recreators they could identify Most of the survivors abandoned the city after that How did you survive? I was ready to revert, but the bomb spared me I became dean of the university after my predecessor was reverted Along with our chief, and many of my students, who were running to their homes But my home is where my research is So I stayed here What are you studying? My predecessor was on the verge of a significant breakthrough But he got reverted on the moon of the attack I have tried to pick up where he left off, but... Let me guess, you need more funding? I don't have any Zorkins to spare No, it's Kool-Rag That old wrinkled Morag The bombs not only damaged his ears, but destroyed his reason He collected my predecessor's notes, and won't let me near them unless I pay an insane amount of Zorkins He has no right So it is about money You don't strike me as a guy sitting on a fortune I could trade the notes for other scrolls, like in any library But the university has been completely ransacked by thieves There is not a single scroll left You're both adults Have you tried talking to him? Have you? Kool-Rag doesn't understand anything He knows that my discoveries on Asiors would make me famous So he's blocking me Until he comes up with a breakthrough of his own What has he ever discovered Except the mold on his precious scrolls? Asiors Sorry, I'm not from here And the tourist kiosk was probably blown up with some other parts of this town You haven't noticed them buzzing around? These little creatures secrete a corrosive acid And I believe I found a way to control their swarms Okay You think you could turn these alien bees into a weapon? Now you got my attention Asiors can melt anything Even metal The Dolatai Guardians would have stood a better chance against invaders If they had swarms of Asiors on their side But I couldn't complete my research in time What do you need to continue? There are Kalmar bushes planted around the university That temper the Asiors' aggressive behavior You can always use them to protect yourself from Asiors If you bring me Asior larvae I can use my research to breed them here and grow them into strong domesticated helpers So they can help me fight? In theory I can focus their attacks on a specific target Thanks to the pheromones secreted by their queen I just need a little more time See you, Rifar Anche un uvete Vabbè, aggiungi due quando sono sulla mappa Come mai? Ci hai aggiunto qualche altra cosa? Can you show me the queen? I don't have one They're protected by their swarm Too dangerous to capture There has to be a way I can see you share my vigor for science I've been working on a theory If you grab the pulp in the hive The queen will chase you Run back here before the pulp dries out And I should be able to isolate the queen at the university Did you ever get a chance to test your theories? I feel like I'm gonna get stung Look for the Kalmar bushes Like the ones around the university In theory They should protect you from a swarm of lethal Asiors In theory, there was a time when scholars like you believed the earth was flat I don't know about the earth But Adelpha is flat Oh boy See you, Rifar Of course Ti aspetto sempre che ci siano Per fare la colonna You haven't You mentioned larvae Yes The more larvae you bring me The more Asiors I could breed And control Collect as many larvae as you can In the Asiors territory Also If you could get my predecessor's notes Off Kurek They would speed my progress And strengthen The swarm How can I get the notes? Talk to Kurek I abandon the hope of having a reasonable chat with him Screaming in his ear won't help either Those notes will See you Come with a Con Come with a Con l'altro Do we have to talk To have these Appunti Si Se era Vabbè Se l'ha capito Ma era Abbastanza Scontato Ok, guarda qui Attira, attira Ok, qua invece raccogli le larve Raccogliamo le larve, dai Potrebbe magari essere un po' più divertente Oh, sono qua su ora, porca miseria, aspettate Porca paletta Attira la regina Porta la polpa di Asha, regina, apolo Ti copo di disporre di Colmar, viola per impedire di Asha di attaccarti Per un breve periodo Non troppo la regina per farsi il conseguo Porca ricorda Ok Infatti fa un senso tremendo, vi dico la verità Ok, la regina sta qua, ma dove la devo portare? La? Speriamo che mi seguono Penso che mi stiano seguendo Ok, arrivano Aspetta, fa mettere, fa mettere qua Vai, cliccola, vai Ok Penso di avercela fatta Uh, infatti fa un senso tremendo ste go Pensate che io mi stavo sparando Vabbè Dobbiamo raccogliere le larve È stato divertente Sta mettendo questa No, attira le larve, no Penso sia più questa, sì Raccogli le larve Ok Andiamo a raccogliere altre larve Oh, sempre d'assurdo Sai che stiamo qua, eh E dai, lo sapevo Aspetta un attimo Che questi mi stanno rompendo le palle Ok Ok, sta qua, sta qua, sta qua Ok Il fatto che non funziona Manca sto cazzo di cazzo Ogni volta devi fare sempre sta strontata La rottura di palle tremenda Che non funziona Quattro su cinque Dai, mi servono altre larve Dove voglio piglio altre larve E non cadere, si è giù Ragazzi, non c'avete altre larve Scutate Dai Dai Ok, forse è qua Ok, qua Avanti Porta le larve Ok Ok Vai Forse da qua Questa si rompe No Come ci entriamo Non è qua Scusate Ma che parte è Larva di ascia Deposina Forse è qua dentro Blu stuff is good stuff Vabbè Abbiamo depositato le larve Non era quello che intendeva Penso che ne devo prendere delle alte Secondo me No Questa Attira l'altra regina Devo stare tranquilli Scusate Non ce la faccio Non ci sta un altro Occhio 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 Sta là Queste la voglio raccogliere Ma non ci serve Una mazza Perché a noi ci serve La vergina Andiamo? Allora Dobbiamo andare di Qua Qua Posso ne devo andare Un po' troppo veloce Ma mi fa incazzare Quando fa così Aspetta Aspetta Ci stai sempre Oh Occhio la vergina È fenomenale Ti sta sempre dietro Ok Ci siamo Ti ho insegnata pure questa Infatti prima pensavo Di avere una nuova armatura Era scordata che ci aveva Ci possiamo anche potenziare Tipo 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 No Ok A meno questa L'abbiamo fatta Allora In dove si va? Peromoni Parliamo con Questo Parliamo un po' È un po' che non parliamo Dai Di manca un po' Il parlato Ogni tanto Devo cercare di Potenziare un po' Alcune cose Perché Praticamente Oh Vabbò Molto non capisco Perché in area Non si carica Praticamente Ok basta Allora Che è qua dentro? No Trust me I can help you I can help you How are you doing? Me? I'm not doing anything I swear the odds Don't hurt me No one's hurting you I'm a friend of the Tillens Ask anyone about Nurcan They'll tell you I'm just an honest merchant who keeps to myself Leave my shop please It's all I have left Even my pride is gone I'm not going to take your shop. What is wrong with you? I know who you are. You're one of them. Them who? The invaders. You saw invaders who looked like me? Like flesh and bone, not metal? After the attack on the city, they came out of their ships to make sure all the recreators were reverted. They weren't just like you. As I hid, I saw them execute dozens of my friends, even my business partner. Please don't hurt me. My memory is Zort. I will forget your face as soon as you leave, I promise. Business partner? What's your business? Oh, I suppose you've never seen a recreator workshop. It's very, very different from this shop. This is my souvenir shop. You talk like someone who has something to hide. No, no, no. Nothing to hide. Look, I can offer you a good discount if you leave me alone. You won't find any recreators here. They're all gone. All but one, it seems. You're a recreator, aren't you? No! I... Zort! How did you know? I worked undercover before. You could use some practice. Don't worry, I'm not with the invaders. I didn't know there were invaders on our side! And I didn't know there were recreators left alive. I can't wait to tell Liyaz about this. I... I am the last of my kind. All my brothers, they collaborated with the Dolatai Guardians. And they all paid with their lives. I have heard of Liyaz, but I don't want to make the same mistake, so please... I understand. And I'll keep your identity a secret. I promise. Thank you. I'll do whatever I can to help, as long as I'm not exposed. Could you help me with... beacons? Not really. Recreators used to craft beacons, but I don't see how you could activate them. So they'd be useless. What's the issue? Beacons are spiritual offerings. They must be recreated using the right components and precise instructions on how to combine them. But they can only be activated when in contact with Hazardesses or, say, Hazardess-inhabited material. You mean... haunted objects. More like sacred? But yes, a good example would be this engraved rock you may have heard of. I think it's located near Emiya. Anyway, it's too big to carry, so... kind of useless. Then I'm out of luck. Unless you are a friend of Mar at the Ulekai Museum, which is impossible since Mar has no friends except the Ulekai. And I'm pretty sure that even the tale of their so-called friendship is... pretty doubtful. Wait a minute. So Mar can shoot activated beacons? All yards know. Mar can't shoot anything except maybe his foot. But he is in possession of Oru's weapon. A rudimentary device, but infused with Oru's Hazardess, since the mighty Gorgor reverted him. Mar has it exhibited in his museum. And I'm pretty sure this was not Oru's purpose in life. I see. Help me craft powerful beacons and leave their activation to me. What does a recreator do these days? I'm retired. I sometimes practice my craft on personal projects, but nothing that... No. I see. Ah. To do what? Not that I would be able to help her or anything. Forget I even said anything. In jail. Why? My best recreation days are behind me, but... Actually, I can still create all sorts of things. That's what I have to do. I can bring you plans. Here's the plan that Reefar gave me. Hmm. Interessant. A plan for an assi or beacon. I'm on it. I'm on it. I'm on it. I'm on it. Let me see where you go. I've been... All right. Segnate... Aspetta, che... Che... Non ho capito una... Allora... Ok. Quindi... Raccogli... Ah, ma li devo raccogliere... Vabbè. Vediamo un po'. Che dovrebbero essere materiali necessari. Dove cavolo stanno? Va vicino. Aspettate. Raggiungi il tuo contrassegnato. Ok. Ma non ho capito come... Forse da qua? Interagisci... Statue... Che c'è? Pardon. Ok. Nerkann needs assi or feremones to craft his beacons. Ah, ecco. Da qua si prendono. Lasciamo di lasciare. Per richiamare. Lasciamo di lasciare. Occorre un segnale. Chiede il segnatore. Vabbè. Ne abbiamo presi a sufficienza. Scusate, ma non credo. Ah, ecco. Ok. L'abbiamo presi. Crea il segnale e cerca un lanciatore di segnale al museo. Crea il segnale. Scusami. Sembra anche più divertente. Speriamo. Sempre a onde dobbiamo andare. Vabbè. Segnale vero? Ok. Allora. Con il segnale per Usher potrai sbinsagliargli uno letale sciame di Usher. Pinghato di danneggiare nel tempo anche i metalli più resistenti. Imbraccia il cannone di oro con HM. Quindi lancia i segnali con A, B, I, D, B. Non ho capito come lo crea il segnale. L'abbiamo fatto. Cerca un lanciatore di segnali al museo. Ok. Lanciatore di segnali al museo. Che sta... Che dobbiamo fare? Cerca un lancia... Dici che è quello? È una maglietta. C'è un lanciatore di segnali al museo. C'è un lanciatore di self-branding? È stato un lanciatore. C'è un lanciatore di segnali al lanciatore di segnali. C'è un lanciatore di segnali ora. L'anciatore di segnali. L'anciatore di segnali, Mar. La color di Urukai's blood. Red è per gli uguali umani, come Phaeran. Mar ha segnali Phaeran, quindi Mar ha saputo. C'è quello che è successo, eh? Mi pensavo che si è morto dentro il ruolo di suo palazzo, come un miserabile croce. Non è un errore. E quindi? C'è quello che è successo con il self-branding? È stato un lanciatore. Questo chienzo era stato così bianco come Ranzar. Pensavo fosse questo, eh? Ora, questo è originale. Potrei usare questo. Non c'è un uccanismo. Un uccanismo con il Urukai. Come un prezente a Mar. In case, Mar ha avuto i bambini. Quindi potrebbe insegnare, come per farciare. Ma non hai bambini, certo? Quindi... Posso farlo? Non. Un uccanismo è un prezente. È un prezente a museo. Mi pensavo. Come on. Mar potrebbe usare extra sorghetti per il ruolo? È un prezente un prezente a prezente? Ok, ce l'ha dato, dai Mi aspettavo un discorso più lungo Ok Ok, abbiamo anche il lanciatore Siamo tutti più contenti Larve di Usher Ora mi intriga Sapere Se veramente Simbolo vuole darti qualcosa Siete pronti? Vedo la verità No Raccogli altre larve No, dai, raccogli altre larve Ancora Devo depositare, penso Sì Brocleana È ancora una piccola Talente No, dai, raccogli ma non depositiamo scusate basta non voglio depositare sì perfetto 10 su 10 va bene ci siamo veramente arricchiti no? basta così allora ricompense pure ci stanno fatemi vedere se possiamo anche accrescere insomma quasi arrivati al banco allora per cui qua chiaramente ce ne manca soltanto una quindi in teoria però si è sblocchiata una missione principale porca porca miseria ragazzi madonna santa andiamo dai andiamo verso la missione principale traccia e luogo dai allora vediamo di capire che cavolo dobbiamo fare qua però sembra isolato io non vedo anche la musica è bella calma ecco bella calma ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua porca che va bene allora io non sto capendo una mazza per vabbè dobbiamo di capire a chi sparare a chi sparare a me ok ecco eh ah io non ho ah ecco ecco porca teniamo pure a queste che ci rompono le palle ok eh aia aia ok ok non caccio tanto land allora occhio che dove sta ma la mia parabola oh vi posso dire una cosa ci sta una cosa che mi sta rompendo le palle a 20 minuti e sono queste cose che stanno qua che palle tremende ok olè olè ci stavamo a sapere qual è che ora se non ci abbiamo una cura schiattiamo all'istante il curo è ma che è che arrivano oh gesù madonna santa quanti ce ne stanno speriamo che non mi seguono ma non penso che mi stanno seguendo blocca i terminali ok ok allora momento ok questo ce lo possiamo prendere grazie allora ne restano due ok ok hanno girato sono furbi però ok abbiamo pregato anche questi ma ne restano altro là non penso ce ne siano altri vediamo cazzo chiede chi sta sparando ma che mi amare che ci sono quelli furbi e quelli stupidi vai 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 intanto lo so che non funziona il pad dobbiamo utilizzare pad e tastiera pad e tastiera mai capitato tipo finire la serie gioendo a pad e tastiera allora il coso dovrebbe stare qua ma se è chiuso no 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 ti dà questo me lo vorrei fregare perché ci possono essere d'aiuto qua non c'è più niente no distrutto il generatore non c'è più niente perfetto sblocca l'alloggio dell'ufficiale ah là è comunque quindi questo me lo prendo assolutamente ok ci sta penso a un altro ma penso a un altro dietro no ma chi è che sta sblocchiamo un attimo questo chi ce ne sta sblocchiato va all'ufficio dell'ufficiale però qua ci stava una cassetta sbaglio mamma mia l'abbiamo trovata mirino fornisce la mia funzionalità di precisione ce ne vogliamo privare non direi a questa ma non si sblocca non si sblocca quando è che si sblocca ah con questa ok perfetto quindi magari gli diamo anche la precisione a questo punto sblocchiamo pure questa e gli diamo anche la mina la mina mentre invece qua penso che ho sblocato l'altra parte mi mettiamo questa quanto ciò che posso sblocchiare no 200 quindi mi faccio in quel posto si e quale se fosse quale che fosse a questo mi sono scordato di utilizzarlo fantastico che è successo ce ne possiamo anche andare a questo punto ma penso proprio di si penso perché la missione è finita vabbè ragazzi siamo fuori abbiamo fatto anche una missione principale che francamente non è assolutamente una cosa negativa la gente non ci voglio andare perché ci rompono veramente tanto le schiatole e niente ci vediamo sul prossimo video vai ciao a tutti Grazie.